Adesso è la prima volta che finalmente ho un fisico ben impostato. Nel 2018 mi sono rotto un tendine nel ginocchio sinistro. Prima di usare i cerotti LifeWave avevo un occhio picco. Mi chiamo Francesco Marelli, sono nato in Italia, cresciuto in Olanda e vivo ormai a Hyderabad, in Bharat o India da circa dieci anni. Sono un istruttore di yoga e lavoro per vari progetti relativi alla salute. Ho iniziato ad usare i cerotti della LifeWave nel settembre 2022. Non ho nessun problema particolare di salute ma volevo semplicemente vedere se i cerotti avrebbero potuto migliorare la mia condizione fisica mentale ma anche se avessero potuto aiutare i membri della mia famiglia e i che magari hanno dei problemi più spiccati nella salute. Prima di iniziare ad utilizzare i cerotti non avevo dubbi particolari. Prima tutto sono una persona molto curiosa di natura, a volte scettico, ma generalmente non sono mai sospettoso, a meno che non mi piaccia la persona che mi parla di qualcosa. Secondo motivo principale, qualsiasi cosa che abbia alcune delle caratteristiche dello yoga, ad esempio di essere non chirurgico, non invasivo, non farmaceutico e senza effetti collaterali, io sono automaticamente interessato. Poi per completare il quadro due miei carissimi amici usavano già i cerotti e me ne hanno parlato molto bene. Ora siamo a gennaio del 2004. Io ho iniziato nel settembre del 2022 e quindi sono passati circa 15 mesi. I primi 6-7 mesi ho esclusivamente usato X39. Vi parlerò brevemente di quattro aree in cui ho visto una certa differenza da quando usi i cerotti. Allora parliamo del mio ginocchio. Nel 2018 mi sono rotto un tendine nel ginocchio sinistro e decisi di non fare l'operazione. Feci mesi e mesi di fisioterapia e poi continuai con degli esercizi da fare a casa. Pian pianino ho recuperato il 90 per cento della mia mobilità e forza e quindi mi muovevo abbastanza bene. Ogni tanto il mio ginocchio si bloccava e per sbloccarlo dovevo dimenarmi diciamo dolcemente muovendo la gamba di qua e di là sperando che questo facesse clac e si sbloccasse. Da quando uso i cerotti della LifeWave anziché bloccarsi una volta ogni settimana o due ora il mio ginocchio si blocca magari una volta ogni mese e mezzo. Sono abbastanza soddisfatto. Sono adesso diciamo al 95 per cento di come era il mio ginocchio prima del problema. Prima di usare i cerotti LifeWave avevo un occhio pigro. Adesso non mi ricordo quale sia perché mi vedo sempre nelle foto e quindi al contrario ma adesso non mi ricordo quale fosse. Poi diciamo se uno vede le mie foto da ragazzino da ventenne è molto evidente di sera o di notte soprattutto quando sono stanco che i miei occhi vanno un po' a merenda. Due tre mesi fa stavo ripulendo il cellulare da tante foto perché si era intasata la mia memoria. Mi resi conto che nelle foto del 2023 non ce n'è neanche una dove avevo l'occhio pigro e quindi mi dissi wow che 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 bel miglioramento perché sicuramente non solo solo i muscoli degli occhi sarà anche collegato a certe altre attività del cervello che quindi sono migliorate grazie all'impatto dei cerotti. Adesso ho quasi 40 anni. Da quando ho 20 anni ho la stessa identica forma fisica. Oscillo sempre tra i 70 e 75 kg. Varie volte ho provato a creare una certa routine sportiva e per creare un po' più di massa muscolare perché sì lo yoga aiuta ad essere magri flessibili e forti però non mi piacevo tanto tanto magro e quindi volevo volevo avere un po' più di massa muscolare. Non c'è bisogno di diventare come Arnold ma insomma un po' più di muscoli. Sì grazie. Adesso è la prima volta che finalmente ho un fisico un po' più ben impostato non ho perso niente in flessibilità e non mi affatico più velocemente che tipicamente succede a chi ha troppa massa muscolare. Quindi questo è un bel cambiamento. È probabilmente legato a un miglioramento almeno parziale del mio metabolismo o assorbimento perché per 20 anni ho mangiato come un disperato ma i chili non sono aumentati. Prima di utilizzare i cerotti tipicamente mi facevo la barba o usavo il trimmer una volta ogni tre settimane perché dopo tre settimane la barba tendeva a raggiungere una certa lunghezza e iniziava ad arricciarsi che non mi piaceva più di tanto. Questo è il segnale per farla fuori. Da quando ho iniziato a usare i cerotti non subito forse dopo tre quattro mesi ho iniziato a notare che dovevo farmi la barba ogni due settimane quindi più o meno la crescita dei capelli è aumentata del 30%. In conclusione vorrei ringraziare i miei due amici Sedart e Pushpaja che mi hanno suggerito di provare questi cerotti e soprattutto anche il dottor David Schmidt fondatore amministratore delegato e inventore dei cerotti della LifeWave per aver creato un prodotto così fantastico non solo per me ma anche e soprattutto per i miei cari e le tante persone in tutto il mondo che stanno usando i cerotti LifeWave grazie della visione insieme a tutti.